Userei una frase proprio di Giampiero Boniperti, quella tanto abusata, l'importante non è partecipare, vincere è l'unica cosa che conta. Era quello che voleva lui, perché sapeva alle riunioni prima della partita, entrava nella sala riunioni e sapeva perfettamente che la squadra aveva delle grandi doti tecniche, ma se non venivano applicate con la dedizione, con l'attaccamento, con la concentrazione, sapeva che queste doti non servivano a niente. Lui diceva sempre, chi vedo che toglie il piede in un contrasto non lo faccio più giocare, aveva ragione, perché se tu metti il piede nei contrasti e anche la tecnica vinci. E come si applica questa frase qua per l'appuntamento che ci avviciniamo, che la partita del cuore ricerca sul campo? 30 maggio, lo ricordiamo, Juventus Stadium. Io sono l'allenatore della squadra della ricerca, sono onorato di far parte di questa squadra, che ovviamente sarà, che metterò in campo con Andrea Agnelli, che sarà il capitano della squadra, John Elkan, Vettel, Raikkonen, il presidente della FIFA Infantino, Nedvedo. Quindi avremo una grande squadra contro la Nazionale Cantanti che dall'81 ha fondato questa squadra e direi che ha fatto delle cose incredibili. Dobbiamo sempre dire grazie alla Nazionale Cantanti per come si è prestata e cosa ha fatto per la ricerca e per tutto. Ricordiamo fondi che vanno all'istituto di Candiolo, un istituto amatissimo ormai da tutta Italia. Un'altra creatura di Allegra Agnelli. Sì, è vero, io ci sono stato in un istituto bellissimo, pulitissimo, che è anche umano per le persone che vanno a curarsi. E devo dire che è stata fatta una cosa grandiosa, veramente. E io sono onorato di contribuire a questo progetto. Tra l'altro questa mattina mi sono permesso di disturbare al telefono il presidente della fondazione dell'ospedale Gian Piero Gabotto per invitarlo qua, siamo cari amici, mi ha detto non posso proprio venire dai saluti e soprattutto l'importante è esserci il 30 di maggio.